Sono cresciuto nelle giovani lì del Milan, dopodiché ho avuto un'esperienza in Spagna e da lì ho fatto un metà nel transizione ad Ascoli dove non ho avuto spazio e sono andato ad Olbia in Pest e dopodiché mi ha riscattato e adesso sono stato gli ultimi due anni e mezzo e adesso sono qui pronto a affrontare questa nuova avventura Quindi l'esperienza di Olbia ti ha rimesso in gioco? Sì, sono stati due anni e mezzo importanti in cui ho giocato sempre e è stato molto positivo Sono un centrale difensivo, mancino, mi piace giocare la palla, sono una buona struttura Un gruppo nuovo con tanti ragazzi nuovi ci sarà modo di conoscerci bene anche per lavorare ma ho visto già tutto l'ambiente intorno, è veramente tutto positivo e questo è importante Il tecnico Tedino lo conosci? Sì, lo conoscevo dalle nazionali giovanili avevo avuto modo di averlo in qualche occasione, in qualche partita e sono contento di essere qua e di poter lavorare Mi aspetto tante cose positive innanzitutto a livello di squadra e dopo anche a livello personale spero di dare il mio contributo, di fare il possibile per portare in alto questa squadra Ho fatto già la Coppa Italia ad Olbi e le ho giocate tutte e due la prima non l'ho fatta però fisicamente mi sono sempre allenato ho iniziato il ritiro un mese fa quindi ho lavorato